Allora, praticamente ho partecipato ad una gara in America La gara consisteva nell'allenamento di un mese continuo, 5 volte a settimana Ora, tornato a Siracusa, ho incontrato tanti miei amici che hanno problemi di peso Visto che l'estate è alle porte, ho pensato bene di organizzare la stessa gara qua a Siracusa Siamo partiti con le iscrizioni, con Patrizia Melluzzo La gara partirà il 2 di aprile e sarà completata il 2 maggio Ogni mese sarà ripetutato Vi dico che c'è pure una bella vincita alla fine, con dei buoni acquisto per abbigliamento sportivo Quindi impegnatevi che oltre a vincere contro voi stessi vincere anche il premio Il premio consiste in 60 minuti nei quali faremo lavorare tutti i muscoli del corpo Sarà un mix di box, ma non la box classica, quella che conosciamo tutti Sarà una box, chiamiamola soft, che servirà per sciogliere tutti i grassi in eccesso Darà elasticità ai muscoli, lavoreremo sugli addominati, sulle gambe, sulle cosce, un po' subito il corpo Ai partecipanti daremo anche una dieta, chi la vuole seguire siamo certi che alla fine sarà dura scegliere il vincitore Chi non trova il tempo per fare sport oggi, lo troverà per curarsi domani Fate sport, mangiate bene e Dio vi aiuti Voglio provarci, a parte il fatto dei pezzi che si perdono Del peso che può essere perso durante il mese A parte anche il premio, ma alla fine se alla fine non vincerò il premio A meno che mi rimarrà la soddisfazione di averci provato E sicuramente avrai smaltito Questo te lo assicuro Che da quello che ho detto posso Se sarai continuo, se segui la dieta che ti darò Ti assicuro che perderai il peso Tranne che dopo che ti arredi vai a mangiare E' una scommessa che faccio con me E' importante provarci Grazie a tutti Grazie a tutti